Allora, salve, sono Saulo Giusto, sono qui ad Evoluzione con Vittorio Alfieri, l'azienda di Francesca Boni e l'olio si chiama? Olio Traldi, è il marchio, oggi abbiamo due oli, Eximius che hai in mano tu e Atus che tengo in mano io. Bellissime bottiglie. Grazie. Innanzitutto direi iniziare parlando dell'azienda, dov'è, che tipo di cultivar poi producete e appunto poi diciamo quali sono le cultivar presenti nelle etichette. Assolutamente sì, non mi fate ingannare dal mio accento, come si sente io sono di Bolzano ma a parte gli scherzi l'azienda si trova a Vetralla, siamo vicino a Viterbo, quindi nell'Alto Lazio e abbiamo un'azienda in totale di 150 ettari che ha al suo interno un resort, vari tipi di cultura tra cui anche circa 40 ettari di uliveto nel quale predomina la cultivar caninese da cui facciamo l'olio Eximius che è questo col packaging verde che hai in mano tu che si contraddistingue per il fruttato, l'amaro e il piccante molto equilibrati ma il piccante soprattutto, questo piccante vegetale. Mentre Moraiolo e Frantoio compongono il nostro Atus che come categoria è intenso e chiude con un retrogusto amaro, quindi per accontentare tutti i palati. Bellissime etichette, molto coraggiose, mi si abbina bene alla giacca, neanche a farla apposta. Stanno bene su tutto, sia come vestiario che come alimenti. Allora, io ti chiedo giusto un'altra domanda un pochino su questo evento. Evoluzione è un evento B2B, impostazione diversa, professionale, l'incontro con gli operatori del settore. Che ne pensi di un'impostazione di questo tipo? Noi siamo degli abituai a questo evento e se torniamo vuol dire che siamo molto contenti e soddisfatti dell'organizzazione e di tutto quanto. Al di là di tutto, dietro un grande evento ci sono delle gran belle persone, come questo è il caso. È inutile nominarle tutte, però insomma, se siamo qui siamo per il rapporto personale che c'è con gli organizzatori, però non finisce lì perché poi io sono il commerciale dell'azienda e alla fine devono uscire anche i numeri e si devono fare anche delle cose di sostanza concrete. Quindi è uno dei pochi, rarissimi, forse è l'unico evento in presenza in cui finalmente ci si può tornare a guardare negli occhi, a parlare e a... insomma, per l'olio è fondamentale perché io personalmente non riesco a venderlo su una vetrina e-commerce o al di là di uno schermo del computer. L'olio va assaggiato, va raccontato e va capito, quindi ben vengano questi eventi, evoluzione per tutta la vita. Va bene, grazie mille. Allora Vittorio, ti lascio alla degustazione in sala con gli operatori e ti ringrazio. Grazie. Ok, grazie, buon lavoro.